E' stata fortemente voluta dall'ente provinciale di Cosenza la serie di seminari volti a supportare i comuni calabresi nel percorso di digitalizzazione per farlo i fondi del PNRR. Questo seminario fa parte di quello che è poi il focus anche del settore del PNRR voluto dalla Presidente Rosaria Soccurro e istituito appunto per la provincia di Cosenza. Fa parte di un ciclo di seminari volti a dare un supporto ai comuni sulla spesa del PNRR, spendere in maniera consapevole e soprattutto mirati a quella che è poi la rendicontazione di questi progetti. Chiaramente la digitalizzazione fa parte di questo percorso ed ne rappresenta un elemento fondante. E' un'iniziativa che ha una valenza importante nel territorio calabrese, è un intervento per la digitalizzazione completa dei comuni ma non solo questi ma anche le scuole e le aziende sanitarie. E' un intervento che mira praticamente a definire meglio gli interventi e la digitalizzazione del nostro territorio considerando quelle che sono le identità del territorio stesso. Noi riscontriamo dei numeri che oggi presentiamo che sono mai registrati comunque in Calabria. Noi abbiamo una partecipazione di fatto completa di tutti e 404 comuni della regione ma anche i 150 della provincia di Cosenza.